buongiorno ragazzi mi raccomando con le iscrizioni continuiamo ad iscriverci al canale ed attivare la campanellina puoi sostenere questo canale gratis iscrivendoti con un semplice click su iscriviti ed attivando la campanellina fate girare il link del canale sui vostri gruppi whatsapp telegram le vostre chat fate iscrivere interisti a questo canale perché diciamo che qualcosina che abbiamo detto è venuta fuori oltre oltre il parlare di calcio in maniera approfondita molti di voi apprezzano anzi diciamo che il 70 per cento apprezza questo canale proprio perché si parla di calcio in maniera approfondita non voglio assolutamente dire sono più bravo di youtube sono un professore no io sono un semplice tifoso come te che mi stai guardando in questo momento io sono un tifoso come te non sono youtuber non sono nessuno ma iscriviti al canale coito interrotto per giuventini e milanisti che ieri sera festeggiavano l'inter in serie sci l'inter in promozione l'inter in prima categoria alla repubblica stamattina che scrive un articolo sinceramente da questa signora tifosa della juventus eh un articolo pieno zeppo di errori in esattezza e basato proprio su quello che diceva ragospia quindi eh un articolo Reuters scritto da questa signora juventina che anche lei sta avendo difficoltà visto i successi dell'inter e visto i grandi successi dell'inter inter un mistero alle caiman negli accorti zang lion rock non c'è nessun mistero se non nella vostra testa e nella vostra stanza dove vedete sempre la maglia dell'inter il problema ce l'avete voi in questo momento voi nella vostra stanza eh state vedendo vi appagliano le maglie dell'inter e quello è il vostro problema è che non accettate il fatto che sul campo siete stati umiliati molto semplice quindi eh sono state messe in giro delle illazioni illogiche le definirei illogiche a dir poco illogiche da gobbi e rossoneri eh senza alcun fondamento ragazzi parliamoci chiaro eh da un lato sono comprensibili come dicevo prima perché stanno soffrendo si vede che soffrono ma è cambiata anche la linea mediatica da quando non c'è più il signor zang se ci fate caso Marotta ora incomincia a spazientirsi risponde piccato sto rivedendo un po' il Marotta della Juve ecco io l'avevo sempre criticato per questo perché eh dicevo ma come Beppino alla Juve per un fallo laterale che è un tirano e tu andai davanti alle televisioni qui all'inter ce ne dicono di ogni tu sta sempre zitto è tornato il Marotta che deve fare il Marotta punto ora può parlare a più potere prima doveva stare zitto come tutti dovevano stare zitti tutti sotto regime ma non funziona in quella maniera non funziona in quella maniera tra l'altro Lion Rock lo ripeto per l'ultima volta ha smesso di investire nel 2021 non è che si è staccata nel 2021 e c'era un signore di Lion Rock che era nel CDA fino ad una settimana fa quindi smettiamola di dire bagianate l'Inter non rischia nulla l'Inter ha fatto tutto secondo le secondo le norme se poi parliamo dei debiti quello è un altro discorso io sono stati siamo stati primi noi a tirar fuori la roba la sigla zang debiti insostenibili che non poteva andare avanti che non che non avrebbe avuto accesso a rifinanziamenti a riscadenziamenti noi quella sigla l'abbiamo fatta un anno e mezzo fa noi siamo stati gli unici a smentire pinco ufficialmente in live ma di cosa ragioni quindi quello è un altro discorso ma queste cazzate che vengono tirate fuori per danneggiare l'Inter non vi serviranno a nulla ragazzi ve lo dico perché poi c'è il coito interrotto pensate di aver fatto pensate di arrivare al punto a anzi dal punto a voi pensate di arrivare al punto c attraversando il punto b ma voi rimarrete al punto b altrimenti andate ascoltare il reverendo che ora che ora con zang e c'erano 200 milioni per il mercato con altri ora moriremo di fame te l'ho detto se no andate ad ascoltare il reverendo tanto poi dopo passa la perpetua mettetegli anche due spicciettini dentro perché lui li piglia volentieri ma questo è un canale serio che dice le cose serie ci siamo capiti o no l'Inter è a posto quindi coito interrotto di giuventini e milanisti e state diventando ridicoli ragazzi perché capisco tutto capisco comunque la rivalità tra tifoserie sempre nei giusti limiti ma state esagerando cioè io lo dico per voi state facendo veramente delle brutte figure ci sentiamo dopo ciao l'inter